Gesù Gesù Questa è la natura non è Dio, non è questo, è Dio Mata il culo Eh? Hai capito? Gesù Matthew riceve una visita non prevista Beh buccata una tra il tuo casa mia a mezzo scompio Prima di tutto te, io non so chi sei Brooke non è affatto contenta Ti è deseservata, perché se io stavo là, tu a casa ci tornavi cassa di a rotelle Matthew cerca di giustificarsi